camionista ubriaco sulla ciclabile panico sul lungomare pesarese malore per giancarlo selci il fondatore di bs ricoverato al santa croce il viceministro ascani inaugura la nuova scuola brancati di via la marmora bagnini pesaresi motivati ad allungare la stagione per l'intero settembre buona serata e benvenuti al nostro rossini news in questo venerdì 11 settembre apriamo l'edizione parlando della cronaca perché nella tarda serata di ieri si è sfiorata addirittura la tragedia nel lungomare di pesaro poco dopo le 23 un camionista ubriaco alla guida di un tir senza rimorchio ha prima imboccato viale trieste contro mano e poi ha continuato la sua guida fuori controllo nel lato di levante del lungomare quando viale trieste è terminato ha proseguito la sua folle corsa nella pista ciclabile che conduce sottomonte passando a pochi centimetri da bar e ristoranti fra il panico dei ciclisti che si sono prontamente spostati verso la spiaggia alla vista del tir di 16 tonnellate il camion in viale trieste ha schivato passanti e ciclisti e una volta nella ciclabile ha abbattuto fioriere e pali della segnaletica prima di terminare la sua corsa al camping marinella dove è stato fermato dalla polizia allertata dai frequentatori del lungomare che hanno assistito al transito del camion il conducente era un cinquantenne di verona al quale è stato rilevato un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito appena uscito dal veicolo l'uomo ha vomitato e ha ammesso il suo stato di ubriachezza gli è stata ritirata la patente, sequestrato il camion ed è stato denunciato per diversi reati correlati alla guida in stato d'ebrezza ed è arrivato poco fa nella nostra redazione un comunicato stampa che vi andiamo subito a leggere infatti l'ABS Group informa che Giancarlo Selci fondatore e presidente della nota azienda pesarese è stato colto da un malore nella giornata di ieri Selci attualmente ricoverato all'ospedale Santa Croce di Fano nel reparto di medicina interna guidato dal dottor Gabriele Frausini che ha diagnosticato un ictus ischemico secondo il comunicato le condizioni di salute non risulterebbero gravi ma saranno decisive le prossime 72 ore per fornire un quadro clinico più dettagliato è stata inaugurata questa mattina la nuova scuola di Via La Marmora la scuola secondaria di primo grado intitolata ad Antonio Brancati ad applaudire il battesimo del nuovo edificio scolastico anche il vice ministro dell'istruzione Anna Ascani presente a Pesaro appunto per questa occasione di scuole così in Italia ne servirebbero altre 40.000 queste le parole del vice ministro all'istruzione Anna Ascani presente oggi a Pesaro all'inaugurazione della nuova scuola di Via La Marmora parole che la dicono lunga sull'eccezionalità in termini di edilizia scolastica che rappresenta il nuovo istituto che è stato intitolato ad Antonio Brancati nel quartiere di Pantano la prima pietra fu messa dal ministro Gentiloni oggi la Ascani che è anche la delica ministeriale all'edilizia scolastica ha presenziato al battesimo della scuola assieme a tutto al corpo docenti agli studenti e a tanti amministratori del territorio una scuola all'avanguardia costruita su un investimento di 4 milioni di euro 800.000 dei quali ottenuti attraverso bandi per progetti di efficientamento energetico quest'estate siamo ripartiti dalla cultura oggi ripartiamo dal sapere della scuola vogliamo che i nostri figli vadano a scuola in massima sicurezza quindi tutti da lunedì dovranno rispettare le regole lavare le mani, portare la mascherina fino al banco misurarsi la febbre mantenere le distanze però lo facciamo anche cercando di mettere al meglio le nostre scuole organizzandole al meglio dal punto di vista dell'edilizia e lo facciamo inaugurando una nuova scuola una scuola alla quale tenevamo tantissimo perché questa è una scuola, una delle migliori d'Italia dal punto di vista dell'efficientamento energetico abbiamo ottenuto un finanziamento del GSE grazie a questo davvero una scuola di altissimo livello con una luminosità, una climatizzazione ottima e un risparmio energetico quasi totale perché è una scuola quasi consumo zero quindi siamo davvero molto contenti non c'era modo migliore per iniziare questo anno scolastico con questa nuova scuola andremo avanti non solo negli interventi di straordinaria manutenzione ma anche nel fare nuove scuole qui di fianco faremo una nuova palestra poi faremo la nuova scuola Dante Lighieri e stiamo cercando i finanziamenti per fare una terza scuola nuova speriamo prima che finisca il nostro mandato quindi grande determinazione nel cercare le risorse europee che arriveranno per tutta la città in particolar modo per il settore del sapere della scuola questa è una scuola assolutamente innovativa e noi siamo strafelici di poter accogliere i nostri alunni in un istituto del genere come dicevo prima l'ambiente di apprendimento fa scuola e questo è un ambiente di apprendimento al top sotto tutti i punti di vista sia dal punto di vista tecnologico del risparmio energetico ma come potete vedere anche lo spazio fisico delle aule, queste vetrate, gli spazi, gli atri tutto contribuisce e contribuirà a far sì di che i nostri alunni crescano in maniera consapevole non solo scuola di Via La Marmora la Scani a Pesaro ha ascoltato anche richieste e esigenze di tutte le componenti del mondo scolastico dagli insegnanti e dirigenti scolastici fino agli amministratori non solo edilizia ma anche graduatoria lotta al precariato è una scuola troppo spesso strumentalizzata nella disputa politica Lei poco fa ha detto che sulla riapertura delle scuole si misura il paese e non il governo è così, è così questa è una questione che riguarda tutto il paese che riguarda dal personale della scuola agli enti locali, alle regioni e naturalmente il ministero i ministeri coinvolti la salute, i trasporti naturalmente il nostro ministero ma va oltre perché questa vicenda della scuola riguarda quasi 30 milioni di persone se andiamo a vedere le famiglie le persone coinvolte indirettamente non può essere una questione di una parte questa è una questione di tutti e chi l'ha resa una questione di parte secondo me ha fatto un cattivo servizio al paese Il lunedì si apre quindi dubito che qualcuno in queste ore possa prendere una decisione diversa dopodiché il calendario scolastico è una competenza regionale da sempre le regioni hanno deciso quando iniziare l'anno scolastico lo hanno deciso anche quest'anno per me è importante ricominciare perché è chiaramente un segnale di ripresa che si dà al paese ossigeno quando riaprono le scuole si dà ossigeno alla ripresa alla ripartenza e quindi è importante che si riparta naturalmente tenendo presente che bisognerà imparare facendo mai come quest'anno si imparerà facendo Continuiamo a parlare di scuola perché fra le tante novità dell'anno didattico che sta per cominciare ci sarà anche quella di una scuola primaria in cui spariranno i voti numerici ne abbiamo parlato con il professor pesarese Giulio De Vivo che da anni caldeggia questa modifica pedagogica al punto da realizzare un sito web dal titolo senzavoto.it Da quest'anno scolastico il decreto scuola ha cancellato il voto numerico come giudizio certificativo quindi nella pacella e questo cambia completamente la metodologia che prima era basata sulle verifiche che andavano a conteggiare quante nozioni un bambino era riuscito ad apprendere o le cose che ricordava di quanto l'insegnante aveva fatto la mattina la proposta che ha fatto l'MCE in Italia tra l'altro un movimento di cooperazione educativa il più grande che c'è in Italia che nasce proprio nella nostra zona insieme a tantissime associazioni sindacati eccetera e a chi vuole una scuola formativa è stato quello di eliminare il voto numerico sostituendolo con un piano metodologico e pedagogico molto più approfondito togliere il voto non significa togliere la valutazione significa dare alla valutazione una connotazione diversa ed esprimersi attraverso le parole esprimere quello che il bambino riesce a fare ogni bambino è in grado di fare qualcosa nel percorso di raggiungere dei risultati quei risultati devono essere resi noti attraverso delle sue conquiste e lui riuscirà a migliorare quello in cui fa più fatica con un numero non si riesce a chiarire la complessità dell'educazione ora comunque c'è un rientro in presenza ma che porta dei comportamenti particolari distanziamento difficili da da recepire a quell'età e certo e lì entra in gioco la grande capacità dei nostri insegnanti perché noi dobbiamo comunque pensare che il bambino subisca molto di più dell'adulto perché non è ragionevole per lui la situazione che sta vivendo e soprattutto quando è fuori dalla concezione naturale dello stare insieme che lui vive la dimensione del gioco e questo distanziamento impone una grandissima frattura fra lui e la realtà che non è concepibile con gli occhi di un bambino ora le strutture che noi abbiamo nelle scuole di oggi sembrano quasi più delle carceri ma non lo saranno perché i maestri sanno bene come fare sanno come spiegare ai bambini la situazione sapranno come stare vicino loro anche se non lo sono fisicamente ed ora il consueto aggiornamento con i dati del coronavirus resta consistente il numero di nuovi contagi rilevati nelle marche nelle ultime 24 ore oggi sono stati registrati 41 nuovi casi in regione 8 dei quali nella provincia di Pesaro Urbino su 1508 tamponi processati ieri se ne erano contati altri 40 15 dei quali nel pesarese va ricordato che simili cifre non si constatavano nelle marche dal 27 agosto ed ora ci occupiamo di una notizia pubblicata sui quotidiani locali di oggi secondo i quali alcuni extracomunitari avrebbero creato scompiglio nella farmacia Zongo di Via Rossi entrando senza mascherina e millantando di essere affetti da una malattia contagiosa la titolare della farmacia Anna Chiara Pietravalle ha voluto correggere il tiro su alcune informazioni relative a questa notizia è entrato questo ragazzo che era chiaramente sotto secondo noi l'effetto di sostanze suvevacenti ed era per quello che si grattava non di certo ha detto sì malattia ma evidentemente aveva bisogno di qualche farmaco ha iniziato ad avere dei comportamenti fastidiosi perché poi si voleva abbassare i pantaloni vabbè robe di ordinaria amministrazione nella tranquillità sono stati chiamati i carabinieri lui nel frattempo è andato via ma ecco non è che ci siano state minacce ha fatto un po' di show ma proprio ecco sotto l'effetto di sostanze stupefacenti finita così insomma così è finita e stiamo entrando in un weekend di settembre che si annuncia accompagnato da altre piacevoli giornate soleggiate tipicamente estive un meteo favorevole che sta suggerendo a tanti bagnini pesaresi di prolungare la stagione balneare mantenendo ombrelloni e lettini per gran parte del mese ascoltiamoli in questo prossimo servizio si avvicina il secondo weekend del mese di settembre il mese che normalmente accompagna il commiato della stagione turistica e balneare sulle spiagge pesaresi ma sono tanti i bagnini che intendono prolungare questa stagione un po' perché il meteo sta sorridendo un po' perché c'è tanta voglia di recuperare il tempo perduto dopo la partenza a scoppio ritardato a causa del covid-19 l'intenzione è quella di vedere il tempo come va se le temperature sono ancora queste manteniamo ancora le attrezzature che come negli stessi periodi degli anni passati cominciavamo già a lavare quest'anno manteniamo un po' di più vediamo cosa cosa succederà nei prossimi giorni che si che si pensa che comunque le temperature rimangono belle alte poi viviamo la giornata non c'è una data limite non abbiamo fissato una data ce la chiedono la data che la data è quella dell'abbonamento stagionale è il 6 settembre ma la data di fine stagione è un'altra che ancora non sappiamo neanche noi in genere in una stagione diciamo normale abbiamo cioè chiudevamo lo stabilimento più o meno verso metà settembre però visto le condizioni meteo e visto che comunque la gente continua ad avere voglia di venire in vacanza il prolungamento sarà più o meno fino a fine settembre Ramona qui siete davanti comunque a tanti alberghi questo incide sul prolungamento della stagione? Ma incide sicuramente comunque noi di solito rimanevamo aperti fino verso il 15 20 settembre prolungare una settimana di più non è che fa una gran differenza fino adesso siamo rimasti voglio dire con tutti gli stagionali con tutta l'attrezzatura in piedi da questo weekend pensiamo di chiudere il ristorante di cominciare a riporre la nostra attrezzatura dopo sabato e domenica perché comunque siamo arrivati a metà settembre cominciamo la nostra manutenzione invernale e basta per arrivare alla fine del mese in modo che lasciamo la spiaggia perché noi abbiamo la licenza fino al 30 settembre quindi comunque abbiamo una scadenza noi andremo avanti fin quando c'è il sole è ancora attivo il servizio di salvataggio fino a domenica prossima perché abbiamo deciso di fare questo servizio per i clienti inizieremo a togliere qualche ombrellone lavare qualcosa però per il momento la spiaggia è completamente attrezzata ancora insomma per i nostri clienti e anche per i turisti se capitasse qualcuno qualche forestiero non vi siete dati una data limite diciamo? no siamo abbastanza rilassati visto che quest'anno la stagione è partita in ritardo siamo tranquilli e fin quando ci sarà il sole insomma siamo qua agiremo più o meno come tutti gli anni e dal secondo weekend dopo il secondo weekend di settembre cominceremo a pulire la parte della spiaggia cominceremo a diradare un pochino gli ombrelloni però daremo comunque l'opportunità a tutti i clienti di avere comunque non più magari il proprio ombrellone ma un ombrellone qualsiasi all'interno della spiaggia perché chiaramente togliendone anche qualcuno qualcuno rimarrà rimarrà senza comunque daremo l'opportunità fino a tutto settembre di venire in spiaggia e utilizzare le strutture della spiaggia i lettini gli ombrelloni le docce i bagni quelli ci saranno comunque sempre ed ora passiamo alla politica l'importanza dei fondi europei per le marche di domani si è parlato di questo ma anche di imprenditoria nell'incontro organizzato a Fano da Cora Fattori vediamo il servizio i fondi europei sono i veri pilastri per la progettazione e la costruzione di un territorio è questa la grande convinzione di Cora Fattori consigliera comunale fanese candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre all'interno della lista di Nascimarche di cui fanno parte più Europa verdi e civici quello dei fondi europei è stato insieme al lavoro il tema portante dell'incontro di giovedì pomeriggio organizzato proprio dalla Fattori al Pincio di Fano al quale hanno partecipato anche Costantino De Blasi economista di fama nazionale e l'esperto di politica energetica Michele Governatori per la ripartenza di un territorio i fondi europei saranno indispensabili strategici l'Europa ci ha dato 209 miliardi da spendere al meglio parte di questi arriveranno anche alla regione Marche e quindi i fondi europei che già erano ingenti cresceranno ulteriormente ma bisogna spenderli bene con questo incontro vorremmo dare dei suggerimenti pratici e ci piacerebbe portare alla prossima amministrazione regionale una voce nuova per spiegare come si possono investire questi fondi europei i fondi europei devono servire per creare un nuovo territorio quindi bisogna analizzare bene quello che sono le capacità e le peculiarità e i punti di forza di un territorio dove vogliamo andare vogliamo puntare sulla grande impresa bene dobbiamo riuscire a far rinascere la grande impresa vogliamo puntare sull'artigianato bene deve essere un artigianato di eccellenze dobbiamo puntare anche lì tutti i temi dal turismo all'artigianato alle bellezze culturali possono essere finanziate con i fondi europei ma devono essere fatti in maniera professionale e non come non bisogna spargere questi fondi con tanti bonus in modo clientelare bisogna programmare quello che sarà il territorio dei prossimi vent'anni e fare in modo di costruirlo di renderlo reale durante l'incontro si è parlato anche di mess ricerca e valorizzazione dei piccoli borghi ma a prescindere dai temi la fattoria ha voluto innanzitutto suggerire un nuovo approccio alla prossima amministrazione regionale alla quale chiede una maggiore attenzione verso i fondi europei per sostenere aziende amministrazioni e associazioni ma anche più investimenti in settori strategici come ambiente digitale e sociale dal 2011 al 2018 la comunità europea ha finanziato dei progetti in tutta Europa possiamo prendere esempio sono progetti ambiziosi progetti ampi non li dobbiamo fare uguali ma possiamo copiare e ispirarci sono progetti nati dalla collaborazione tra università e imprese noi nelle Marche abbiamo quattro università e due scuole d'arte accademie d'arte e quindi abbiamo tutto il potenziale per poter far crescere una nuova impresa sui temi ambiente digitale e sociale grazie ai fondi europei il ministro dell'istruzione finanzierà l'affitto e l'adattamento dell'ex scuola infermieri di Pesaro che ospiterà 15 aule del liceo Mamiani la provincia di Pesaro Urbino risulta infatti tra gli enti beneficiari delle risorse per noleggi temporanei di strutture ad uso didattico messi a disposizione dal recente avviso pubblico del MIUR il finanziamento complessivo assegnato è di 172 mila euro e comprende anche il noleggio di strutture temporane per ricavare un'aula al Marconi di Pesaro due aule alla Pollone di Fano e il noleggio di container per alcuni arredi del Santa Marta di Pesaro e del Volta di Fano spostati per creare nuovi spazi didattici ci occupiamo ora della 17esima edizione del festival Hangar Fest che domani sabato 12 settembre alle ore 20 con replica alle 22 proporrà lo spettacolo tutto al femminile For Solos for Women il lavoro prodotto dalla compagnia Naturalis Labor raccoglie e amplifica le esperienze di quattro danzatrici soliste provenienti da compagnie internazionali ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni che sono sempre tante e soprattutto molto interessanti e per questo vi ringraziamo e vi invitiamo a continuare a mandarci sms foto o video al nostro numero di whatsapp che state vedendo in sovrimpressione oggi una nostra telespettatrice ci ha segnalato il perdurante stato di deterioramento del passaggio pedonale del parco pubblico di via Vincenzo Rossi in zona Pantano le piastrelle di questo transito sono infatti sgretolate in più punti e rischiano di essere infide e pericolose per chi le percorre e allora grazie per questa segnalazione adesso un appuntamento da non perdere perché domenica prossima quindi domenica 13 settembre alle ore 17 nelle mura del castello di Pozzo Alto sarà inaugurata la mostra alla riscoperta della linea gotica 204 ieri e oggi il significato di questa esposizione che unisce storia fotografia arte e musica ci viene illustrato dall'organizzatrice Francesca Guidi domenica ragazze ci sarà veramente un bellissimo evento dove porteremo a Pozzo Alto la cultura la storia la poesia la musica il canto tante bellissime forme d'arte per fare questo passaggio da lei era oggi attraverso un evento storico molto molto importante per il nostro territorio si riferisce all'episodio del 31 agosto 1944 esatto esatto quindi la battaglia di Pozzo Alto rivisto diciamo in chiave moderna abbiamo coinvolto tante realtà del territorio tra cui anche lo sport con la gymnal che poi sarà una bellissima chicca perché non ve lo dico a voi non ve lo dico perché farà un'esibizione molto molto particolare sempre a tema ci saranno ci sarà la poesia con dei poeti ci saranno degli artisti una mostra d'arte ci sarà una mostra invece storica curata da Lampi con una narrazione storica dello storico Francesco del Bianco verranno coinvolti quindi non solo anche come pubblico grandi e piccini e ragazzi perché tra i nostri ospiti abbiamo veramente anche dei musicisti molto molto giovani tra cui una bambina di 12 anni un ragazzo di 18 o il pianista che Davide Ricci che ne ha sui 24 quindi come potete vedere è veramente fruibile a tutti noi vi aspettiamo e vi aspettiamo domenica 13 settembre dalle ore 17 con la mostra fotografica dell'Ampi con lo storico dell'Ampi con la mostra degli artisti quindi una mostra d'arte alle 18 sempre all'interno del castello di Pozzo Alto invece avremo tutto inizierà veramente tutto lo spettacolo videotestimonianza molto importante di alcuni abitanti del luogo quindi di Pozzo Alto raccolto dai consiglieri di quartiere per rivivere insieme e per non dimenticare ed ora lo spazio dedicato allo sport partendo dal basket perché ieri a Dolbia c'è stata un'altra convincente vittoria della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nella quarta gara di Supercoppa la VL ha battuto nettamente la Virtus Roma per 89 a 56 concedendosi il bis di successi sui capitolini a distanza proprio di pochi giorni a spiccare è stata la prestazione di Zanotti autore di 15 punti la VL ora si gioca a buone chance di passaggio al Final Four domani contro la Epi Casa Brindisi alle ore 21 e ora parliamo di calcio ricordandovi che domani alle 21 a Rocca Costanza ci sarà la presentazione ufficiale della Vispesaro 2020-2021 l'evento sarà d'ingresso limitato per un massimo di 400 tifosi per quanto riguarda l'Alma Juventus Fano la squadra Granata ha invece battuto ieri Lascoli in un amichevole a porte chiuse con un convincente 2 a 1 grazie alle reti di Barbuti e Parlati ne abbiamo quindi discusso con il nuovo presidente del Fano Enrico Fattò O'Fidani questa è la prima scambata che abbiamo avuto quest'anno con un avversario di categoria superiore loro sicuramente hanno meno giorni di allenamento nelle gambe però noi veniamo da tre settimane e passa di lavoro intenso e i ragazzi assolutamente hanno interpretato la partita in maniera diciamo quasi perfetta per il periodo che stiamo passando è stata una soddisfazione vedere che tutti hanno messo l'anima dentro hanno dato tutto quello che avevano si inizia a intravedere anche qualche trama di gioco veramente interessante bella fattiva e quindi è un prodromo positivissimo insomma sono veramente soddisfatto alla prima anche questo per me è il mio esordio è la prima vittoria con una squadra di categoria superiore ripeto come l'Ascoli è una soddisfazione e siamo arrivati alla fine di questa edizione di venerdì 11 settembre io vi ricordo che domani è sabato e vi ricordo che domani alle 7.20 c'è la rassegna stampa questa è la novità appunto di Rossini TV anche il sabato vi proponiamo la lettura dei quotidiani locali alle 7.20 e poi con le consuete repliche alle 8.30 9.30 12.30 14 anche la sera alle 18.30 mentre questa sera in tv in prima serata alle 21.15 una serie di appuntamenti dedicati a Estra e in questo caso c'è la presentazione di questa azienda non perdetevi tutti i servizi che verranno raccontati alle 21.15 alle 22.30 e poi alle 21.30 potrete vedere i candidati alle prossime elezioni regionali i candidati a confronto che si sono ritrovati alla Camera di Commercio delle Marche 21.30 in replica alle 23.00 Vi ricordiamo anche un'altra novità di Rossini TV dalla prossima settimana al venerdì torna il Vallefoglia Magazine il telegiornale di Vallefoglia il magazine settimanale che partirà di venerdì e quest'anno sarà alle ore 19 e alle 23 poi sarà replicato in tutte queste repliche che vedete fino al martedì Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi auguro un buon fine settimana ci vediamo domani appunto con la rassegna stampa e poi lunedì con la consueta programmazione di Rossini TV con la rassegna stampa